A quanto riguarda l'essere non è la Scandino, è il Sintegravi Generale dell'autorità di sistema per quale è un'area di atti possedenzionale. Grazie. Grazie signor, buon giorno a tutti. Allora, molto importante anche per noi in questo momento, diciamo, di presentazione della congevazione, quindi si arriva direttamente la qualificazione ambientale delle aree, della regione, cioè le banchine, aree più, che appena il proprio marittimo in Valdadio e Chioso, in quanto partecipato dal sindaco. Noi abbiamo ovviamente competenza per l'area in causa della costituzione dell'autorità di sistema virtuale e a fronte della quale è stato sottoscritto un accordo di programma il 5 luglio 2019, tra i riservi appunto delle autorità e il commissario straordinario per il subietro dell'autorità stessa nel rendimento dei giochi disponibili per qualificazione ambientale. A fronte di questo, diciamo, di questo accordo, l'autorità ha ovviamente la responsabilità, diciamo, delle gestioni, delle gestioni, delle progettazioni e successivamente delle esercizioni delle attività che sono state anche attivate, come sapete, sono state interrotte a causa dell'invenimento di Alianto, a fronte del quale è stata decida una strada che porterà a questi due piloti per identificare le modalità migliori per la continuazione delle attività, in particolare per un aggiornamento, ad esempio, lo studio di progettazione, al fine di completare effettivamente il percorso di un politico che non ha mai avviato già da molto tempo. L'autorità è veramente in maniera su questo cantiere, sia perché rappresenta uno degli elementi di castelli dell'integrazione delle aree di pioggia nella responsabilità e nella competenza dell'autorità, sia perché ovviamente stiamo lavorando per lo sviluppo della virtualità nell'apporto di Chiosa. Ricordiamo che ci sono due anime della virtualità a Chiosa, una della vita recentemente, ovviamente vista con gli eventi sul progettazione che sono arrivati a partire al 17 giugno scorso, e un'altra della parte di Chiosa che si svilupperà ulteriormente nei saloni e un'altra della zona Vodalio che è rappresentata prevalentemente in ambiti commerciali. Quindi questi lavori di bonifica, oltre che rilevanti sul profilo ambientale di sicurezza della cittadinanza, saranno anche importanti per ricordare nella destinazione puntuale ideale che al momento, purtroppo, possono essere utilizzate, raccontando ancora di più la risenza puntuale sotto il profilo commerciale di quelle zone. Ricordo solo, visto insomma il contesto, che il traffico merce, il traffico che era utilizzato prevalentemente un 28 per cento di sisiologia, un 25 per cento di traffico tale, un 20 per cento del settore chimico e un 10 per cento della parte cedento. Chiaramente, insieme alla Zingale, ovviamente anche con iniziative regionali, stiamo spingendo molto il volano, il posto che può trainare la città, altra è la spinta produttiva e chiaramente quella economica. Non vorrei rubare l'ultimo dettaglio per lasciare alcuna proposta di tempo in centro su tutte le iniziative di avvio del pilota su Lagnando. Grazie, grazie, dottore, staspermino una cosa.